Il podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio del Belgio che si è corso ieri sul circuito di Spa-Francorchamps, Gran Premio del Belgio che ha fatto riprendere l'ostilità alla Formula 1 dopo la pausa estiva, anche se va detto non cambia il copione, una Red Bull sugli scudi, una Ferrari rivedibile e un mondiale che praticamente è chiuso a meno di catechismi incredibili, ma ne riparleremo in modo più approfondito quando vedremo la classifica generale. È stato un Gran Premio in realtà abbastanza anonimo dal decimo giro in avanti, prima in realtà però c'è stato tanto da dire, in particolare per quanto riguarda la partenza della gara del Belgio, perché già di base parlavamo di un Gran Premio dove dal quattrocesimo posto in giù erano tutti i penalizzati per via di cambio alla Power Unit e tra questi modi penalizzati c'erano anche Verstappen e Leclerc e la partenza di Verstappen appunto a metà schieramento di fatto era un motivo di interesse per vedere appunto quanto il pilota attualmente più in forma quella macchina nettamente più importante e più performante in questo momento avesse appunto compiuto la rimonta, in quanto tempo? La rimonta che si è completata appunto di fatto troppo presto e da lì in poi la gara era più in zena a dire, invece davanti il filimondo perché oltre la pole position della Ferrari ma con Carlos Sainz due piloti hanno dato spettacolo. La seconda fila infatti va detto che era Hamilton-Alonso, sappiamo perfettamente che tra l'inglese e lo spagnolo non ci sono proprio dei rapporti di liaci, anzi probabilmente si detestano e infatti si è visto appunto al rettilineo delle Cammelle, alla staccata prima di Lecombe. Primo giro di gara, di fatto Alonso è terzo, Hamilton è quarto, l'inglese va direttamente a tentare il sorpasso sullo spagnolo appunto prima della staccata dopo il rettilio del Branche Mon, va detto che in realtà Hamilton a mio modo di vedere chiude come se Alonso non ci fosse, contatto gomma su gomma, alla fine il pilota inglese vola letteralmente, quello che vediamo qui dall'immagine, e dovrà ritirarsi. Peraltro appunto è una dinamica di gara che non è stata investigata, almeno a mio modo di vedere, l'hanno fatta passare come incidente di gara ma perché Hamilton di fatto si è ritirato dopo quattro curve, ripeto secondo me è colpa del pluricampione del mondo inglese perché nell'onboard da Alonso si vede benissimo, nella staccata di Lecombe appunto l'inglese chiude come se Alonso non ci fosse e che comunque stava impostando la traiettoria dall'interno della curva. Il fatto sta che questo è l'unico sussulto della gara perché poi dopo le vetture si fermano perché inzirà safety car e in realtà non per il contatto di Alonso ma per un contatto tra Joe e Latifi, dopodiché poi la gara in realtà avrà poco da dire perché Leclerc farà un'altra gara in colore, davanti invece rimonta la Red Bull e vince ancora una volta Max Verstappen, terza vittoria consecutiva per il pilota più in forma in questo momento e anche l'uomo da battere. Indubitabilmente è così, però è una Red Bull che addirittura fa doppietta perché Sergio Perez partiva secondo e secondo effettivamente è rimasto mentre Verstappen compice appunto un po' lo schieramento di metà bassa della classifica che non è proprio idilliaco e una macchina direttamente superiore da quattro decisimo rimonta a primo in una rimonta oggettivamente abbastanza facile perché appunto con questa Red Bull e con delle macchine avversarie di testa, in particolare la Ferrari non così competitive, è evidente che è quello che vediamo nel podio quindi vittoria per Max Verstappen al primo posto per il quale suona anche una volta il Wilhelmus, secondo Sergio Perez che appunto ripeto partiva secondo e terzo Carlos Sainz che partiva in pole position ma il terzo posto di Carlos Sainz secondo me è la cartina di tornasole sul fatto che la Ferrari è rimasta praticamente ferma agli sviluppi di inizio stagione quindi una macchina sì competitiva ma che non dominava come nelle gare appunto passate e la Ferrari appunto tolta la vittoria di Sainz a Silverstone e la vittoria di Leclerc in Austria di fatto ha sempre preso le sberle dalla Red Bull e in parte anche dalla Mercedes qui invece non così competitiva come magari le altre gare. È evidente come appunto la Ferrari si afferma e che se hanno parlato degli sviluppi non sono stati così efficienti come la Red Bull che invece ha lavorato tanto sui problemi che c'erano all'inizio stagione, la Red Bull era di fatto la terza macchina in pista all'inizio stagione e adesso è nettamente la prima senza se e senza ma. Per un mondiale che io dico da 5-6 recent podcasts che è praticamente indirizzato e chiuso verso Verstappen è ovvio la matematica tiene ancora aperta una lotta con Leclerc ma è evidente che più va avanti il campionato più quello che dico evidentemente ha un senso e il distacco è clamoroso perché Verstappen con la vittoria di Spa va a 284 punti. Non consideriamo Sergio Perez che comunque sta facendo una signora stagione ma prendendo come riferimento Leclerc che doveva essere il go to die della Ferrari per tornare a vincere il titolo del mondo dopo Raikler del 2007 è veramente clamoroso, sono appunto 98 punti. È un qualcosa che è veramente una pietra tombale sul mondiale. Saranno gare che comunque verranno seguite ma la vedo praticamente impossibile che Verstappen possa perdere 98 punti nelle gare che rimangono perché abbiamo già visto che la Red Bull è ipercompetitiva e Verstappen quando sbaglia fa settimo. Leclerc e la Ferrari in generale quando sbaglia il pilota finisce a muro. Quando Leclerc fa delle buone gare ci si mette di mezzo anche il muretto Ferrari che anche oggi peraltro non è che abbia proprio brillato sul monegasco e di conseguenza in queste condizioni mi sembra praticamente impossibile che il monegasco vinca il titolo del mondo e siamo sempre più indirizzati verso il secondo titolo del mondo di Max Verstappen. È vero dirlo all'inizio della protestiva, forse può sembrare un po' forte ma appunto io è da un po' di gare che lo dico ed è abbastanza evidente come appunto sia, non dico una passerella per Verstappen vincere questo mondiale ma Spa secondo me è la cartina di tornasole proprio sul secondo titolo del mondo dell'olandese. Podio appunto è completato dicevamo da Sergio Perez per testimoniare che questa Red Bull è la macchina da battere senza se e senza ma appunto Perez peraltro questo secondo posto sovpassa pure Leclerc che fino alla gara di Ungheria era secondo appunto nel mondiale e la Ferrari sta riuscendo nella clamorosa impresa di far perdere anche il secondo posto a Leclerc appunto segnalando una debacle totale della Ferrari che era partita con tutti i grismi della macchina favorita e che invece adesso si ritrova a raccogliere le briciole. Certo la Ferrari salva un podio con Carlos Sainz ma è un podio molto più amaro che dolce perché appunto già Sainz partiene in pole position è ottimo che Sainz sia dimostrato un buon qualificatore ma di passo gara evidentemente non ce n'era e appunto è per questo che dico che dal decimo giro la gara non aveva più senso di esistere perché Verstappen ha fatto sfruttare molto bene le gomme morbide e si è fermato anche dopo rispetto agli altri Ferrari compresa e poi da lì con le gomme medie è arrivato al passo superiore e la Ferrari veramente non poteva fare molto molto di più. Certo Leclerc ha anche una piccola dose di sfortuna perché la visiera a strappo di Max Verstappen si è incastrata appunto nella macchina nel fondo macchina di Leclerc che ha dovuto anche anticipare la sosta in safety car ma secondo me non avremmo visto rispetto a questo. Probabilmente Leclerc sarebbe finito quinto forse quarto e non sesto ma cambia comunque poco il ciclo dei discorsi che Leclerc secondo me è virtualmente tagliato fuori dal titolo del mondo anche perché ripeto Leclerc potrebbe vincere anche qualche gara da qui alla fine perché ne mancano comunque otto ma non avrà secondo me la capacità di tenere testa a Verstappen e rimontare i 98 punti. Con tutto il bene che voglio a entrambi i piloti perché Verstappen e Leclerc hanno regalato sicuramente un buonissimo campionato però e vi ripeto per la terza volta in questo racing podcast Spa è secondo me la pietra tombale sicura sul mondiale della Ferrari che dovrà riprovarci l'anno prossimo sperando di avere in generale una configurazione migliore e anche delle strategie più sul pezzo nelle gare che si decidono da quel punto di vista. Gli altri piazzamenti parliamo invece di Russell che finisce quarto in una gara che testimonia che la Mercedes appunto poteva essere competitiva sicuramente sì non abbiamo la controprova con Hamilton che si è ritratto dopo 5 curve però Russell ha fatto comunque un'ottima gara. Quarto il pilota inglese quinto è quel Fernando Alonso che ha dato spettacolo non solo in pista ma anche nei team radio lesinando ironie e critiche molto velate sia a Hamilton sia alla Ferrari sulla strategia di Leclerc ma comunque Alonso quinto in un circuito molto veloce è un buon riscatto secondo me per l'Alpin Renault che non è di certo la macchina più competitiva dell'otto e si vede ancora come appunto lo spagnolo a 40 e passa anni suonati sia evidente ancora uno dei piloti più talentuosi evidentemente che ci sia in giro. Direi che abbiamo detto sesto, settimo il soccorso di squadra Esteban Ocon per un Alpin in generale molto molto interessante da questo punto di vista Alpin che peraltro si è chiesto per l'inglese lo sapete tutti del mancato contratto a piastri e del addio di Alonso che peraltro andrà in Aston Martin a prendere soldi evidentemente. Ottava posizione per Sebastian Vettel che appunto abbiamo detto si è ritirato al termine di questa stagione si ritirerà meglio e appunto il soccorso andrà preso da Fernando Alonso. L'Alpin è rimasta senza piastri e vedremo chi sarà il sostituto appunto di Ocon, con Ocon meglio. Pierre Gasly finisce nono per un Alfa Tauri ancora una volta a punti con il pilota francese e decimo Alexander Albon con una Williams che in questa pista si è dimostrata molto interessante quantomeno sul tailandese. Buona strategia per il tailandese nato a Londra e ancora una volta punti per una macchina che è una delle più disastrate del circuito insieme alla Aston Martin e all'Alfa Romeo che ancora una volta sono appunto macchine in colori. Così come in colori sono stati appunto i due della macchina arancione, qui parliamo un attimo da tifoso perché il team McLaren fa dodicesimo con Lando Norris qualcosa di aberrante nel modo di vedere e Daniel Ricciardo finisce il quindicesimo, in generale la McLaren ha fatto pietà quindi il commento è abbastanza rapido e indolore. Il commento sulla McLaren in realtà lo facciamo in realtà per quanto riguarda il mercato, sappiamo perfettamente che Ricciardo ha abbandonato, o meglio abbandonerà, la McLaren a termine di questa stagione e il suo posto, ovvero similmente andrà preso da quell'Oscar Piastri che doveva andare in Renault, poi smentito il contratto in Renault con appunto il tweet famigerato ormai dello stesso pilota australiano preso per meme da tutti e alla fine Piastri che aveva evidentemente un precontratto con McLaren andrà a formare una bella copia con Norris, certo la macchina in questo momento fa schifo, per il futuro secondo me è una buonissima copia ma anche lì si potrebbe fare il discorso in piccolo che abbiamo fatto quella Ferrari, se la McLaren tornerà essere una macchina interessante e sviluppata bene allora Norris Piastri è una bellissima coppia, con una macchina non competitiva ho francamente i miei dubbi ma vedremo. Formula 1 che invece tornerà in Olanda già questa domenica per di fatto il secondo appuntamento del triptico perché in tre settimane ci sarà Belgio, Olanda e Italia, stesso triptico che appunto avverrà protagonista le Formula 2 e le Formula 3, una Formula 2 che vede anche una volta la lunga classifica di Philippe Drugovic a 205 punti, contro i 162 di Theo Purchè, Drugovic è tornato il pilota più competitivo, quantomeno su questa pista, come fosse l'inizio della stagione anche se non ha mai vinto perché è un trionfo oceanico in Formula 2, gara 1 la vince Liam Lawson, pilota junior della Red Bull che corre con il team Carlin e dunque suona per lui God Defend New Zealand. Seconda posizione per Jack Duan che avrà un grandissimo weekend a Spa-Francorchamps e terzo è Ralph Boschug a rientro da N.000 problemi di infortuni, torna a Spa-Francorchamps e fa podio quindi grandissima soddisfazione per il pilota svizzero del team Campos. Gara 2 invece la vince Jack Duan e dunque suona per lui al Basso Australia Fair per la terza vittoria della carriera del figlio di Mick in Formula 2. Seconda posizione per Philippe Drugovic che appunto allunga sfruttando la debacle di Theo Purchè che in gara 1 viene superato appunto con una strategia differente da Drugovic che con la gara con le gomme mobile sfruttando anche una safety car per un bruttissimo contatto che c'è stato appunto a metà gara e in gara 2 Purchè si deve ritirare per un problema elettrico. Terza posizione invece per Liam Lawson che appunto testimonia che anche lui un po' come Duan ha fatto una bellissima due giorni di Spa-Francorchamps. Piccola parentesi apriamo il ritorno di Tatiana Calderon che è stata in tempi recenti la pilota donna più competitiva in queste categorie, ha preso punti in Formula 3, ha corso in Formula 2 però tre anni fa era andata a correre in Indica e è tornata in Formula 2 diciannovesima e diciottesima la pilota colombiana. Poi una Formula 2 che appunto tornerà a Zandvoort, categorie propedeutiche che avranno di fatto il rush finale perché tolta la Formula 2 che chiuderà ad Abu Dhabi la Formula 3 chiuderà appunto a Monza e dunque qui il trittico è veramente infernale perché la classifica della Formula 3 è veramente tanto competitiva e veramente tanto stretta perché di fatto i primi 5 piloti sono tutti in lotta per il mondiale dai 106 punti di Isaac Hajar ai 96 di Roman Stanec sono tutti veramente in lotta per il titolo di categoria per una gara di Formula 3, un weekend di Formula 3 carregato veramente gare spettacolari gara 1 la vince Oliver Berman che appunto si rilancia, il giovane del team prima della FDA va appunto a conquistare la prima vittoria della carriera in Formula 3 per cui lui suona God Save the Queen seconda posizione per Roman Stanec, pilota cieco, costante con il team Trident che ha già vinto quest'anno a Imola e fa ancora una volta doppio podio qui a Spa-Francorchamps e terza posizione per Alexander Smogliar il pilota russo che comunque si conferma uno dei piloti migliori di questa categoria mentre gara 2 è qualcosa di storico perché vince Zane Maloney il primo pilota delle isole Barbados a vincere una qualunque categoria della filiera della Formula 1 per cui suona il suo inno nazionale per immagino festa nazionale appunto per tutti gli abitanti barbadiani seconda posizione per Roman Stanec, doppietta del team Trident dunque i team italiani veramente sul pezzo perché abbiamo il podio anche di Oliver Berman che si conferma è una gara di Spa che ha dato veramente spettacolo perché tutti i primi tre di classifica fino a quel momento ovvero Vector Martens, Isaac Ajar e Arthur Leclerc hanno preso o pochissimi punti vedi Ajar e Leclerc oppure si sono addirittura ritirati due volte vedi Martens che causa peraltro una clamorosa safety car in gara 2 che appunto permette il riconoscimento tra Stanec e Maloney alla fine Maloney riuscirà a tagliare il traguardo per primo e appunto a regalare questa grande vittoria storica alle isole Barbados italiani purtroppo non benissimo peccato per Francesco Pizzi che partiva terzo in gara 2 e che poteva assolutamente prendere dei punti alla fine il pilota classe 2005 deve accontentarsi di una anonima ventunesima posizione e tutti gli altri italiani purtroppo sono confermati nel range solito quindi nella migliore dell'ipotesi fino alla quintima posizione nella peggiore di fatto delle ultime ma sono tutti appunto ragazzi giovani che andranno aspettati per una Formula 3 che comunque adesso al rush finale si chiude a Monza tra due settimane quattro gare ancora da esputare e cinque piloti di fatto in dieci punti sarà veramente un campionato spettacolare che mi appresto seguire ovviamente fino al termine di cui vi renderò conto in questi prossimi racing podcast scusate ma è la Formula 1 che appunto dei tre macro campionati quindi F1, F2, F3 è quello praticamente più indirizzato anche se è quello sicuramente più prestigioso con appunto un Verstappen sugli scudi praticamente impossibile da battere con una macchina nettamente superiore vedremo cosa ci servirà comunque la sua gara di casa tra una settimana o meglio tra sei giorni a Zantwoord che intanto vi lascio con questa classifica per la conclusione del racing podcast di oggi il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti